Ciao amici benvenuti nella magica atmosfera del salottino rosa. Allora è un momento ovviamente molto difficile per tutti quanti e siamo isolati a casa, siamo in uno stato di attesa trepidante e siamo anche in pensiero per tutte le persone che in questo momento non stanno bene. Però per noi che non possiamo uscire, non dobbiamo uscire, non vogliamo uscire perché non vogliamo mettere a repentaglio la vita di nessuno e del lavoro di nessuno, è un momento anche di grandi riflessioni. Visto che dobbiamo stare a casa abbiamo la possibilità di ripensare a tante cose e oggi vorrei parlare del lavoro, non entro nel merito invece della questione malattia, quello che sta accadendo e la sofferenza che c'è dietro, non vorrei parlare di questo anche perché non mi sento pronta per farlo. Voglio parlare di noi creativi, lavoratori, noi che usiamo le mani, noi che siamo piccoli artigiani, che siamo piccoli artisti o grandi artisti, chi può dirlo? Chi lo sa? Tra di noi chi è un grande artista, forse ce ne sono, ce ne sono tanti. Insomma artigiani creativi, io vorrei parlare del nostro lavoro e vorrei parlarvi di quanto sia importante questo periodo di isolamento, di isolamento dal resto del mondo, di rallentamento della vita per programmare il futuro, perché questo è il momento in cui noi possiamo pensare al futuro. È un controsenso? No, per nulla. Abbiamo, viviamo anzi in una situazione di sospensione, galleggiamo come delle macchie d'olio sull'acqua in attesa forse di riunirci, di stare di nuovo attaccate, ma c'è questa situazione mondiale pesante e drammatica. Però io ho una grande fiducia nel fatto che ne verremo fuori ed è per questo che vi dico occupiamo questo momento anche per programmare il nostro futuro, il nostro futuro di artisti, di creativi, di persone che desiderano riprendere la loro attività lavorativa non appena sarà possibile, certamente non ora, ma non appena sarà possibile. Adesso pensiamo anche al futuro. Amici scusate questa introduzione un po' lunga, però ci tenevo a dire questa cosa. Allora, che cosa succede? La prima cosa che vi vorrei fare notare è che si è liberata una risorsa importante per noi che siamo a casa. La risorsa importante è il tempo. Finalmente si è liberata la risorsa tempo, sì, finalmente. Ci siamo sempre lamentati fino a questo momento, abbiamo sempre detto non abbiamo il tempo di fare questo, di fare quello. Ora abbiamo del tempo per noi. Certamente c'è la famiglia, c'è la casa, ci sono gli affetti, ci sono le preoccupazioni che ci distraggono anche tanto dal nostro lavoro, dal nostro lavoro di creativi, intendo dire. Però abbiamo più tempo a disposizione e dobbiamo farne qualche cosa. Finalmente possiamo mettere ordine nella nostra attività, oltre che nella nostra vita. Mi vorrei dire questo. Innanzitutto il primo punto che io mi sono segnalato di cui vorrei parlarvi, perché secondo me è molto importante, a proposito della risorsa tempo che abbiamo adesso, è quello di rallentare. È paradossale? Cioè abbiamo più tempo, dobbiamo rallentare? Può essere. Abbiamo più tempo, dobbiamo rallentare. Rallentiamo. Finalmente possiamo rallentare. Abbiamo bisogno di andare piano, un po' più piano. Togliamo quello che non possiamo fare. Certamente adesso non abbiamo lo stress della consegna, assolutamente dalla consegna, anche se abbiamo consegne da fare, ma insomma il cliente capisce e capirà che forse non è possibile o che abbiamo bisogno di qualche giorno in più, per forza, per forza di cose. Quindi viene meno lo stress della consegna, viene meno lo stress della festività da rispettare, le festività come quella, la festa del papà, per cui si fanno dei regali o regalini, chiamatele come volete, la festa della mamma. Noi li festeggeremo, certo che li festeggeremo, festeggeremo queste giornate con le nostre famiglie, faremo di tutto per renderle belle, ma la nostra produzione, diciamo così, è sospesa forse, o comunque passerà in secondo piano perché la gente ha altro da pensare, quindi festività le mettiamo un attimo da parte. Lo stress da produzione, possiamo fare a meno dello stress da produzione continua, oddio devo fare questo, devo fare quello, devo produrre, devo progettare, però anche il sito, però dovrei guardare Etsy, però dovrei fare questo. Tutto questo viene meno, si liberano risorse ed energie. Andiamo più piano, concentriamoci sulle cose più importanti perché il futuro arriverà e tutto questo passerà, passerà e noi torneremo a lavorare, torneremo a fare del nostro meglio, come abbiamo sempre fatto. Allora, innanzitutto ragazzi bisogna, io penso questo, è una mia idea, voi ditemi pure se siete d'accordo. È necessario pensare che probabilmente in futuro useremo molto internet per pubblicizzare la nostra attività, per diffonderne la conoscenza, per agganciare clienti, per conoscere persone, magari fare nascere collaborazioni. Pensiamo alle collaborazioni con altri artigiani, altri creativi, altri artisti. Potrebbe essere una fase futura, qualcosa che potremmo fare nel futuro. Quindi è molto importante, secondo me, decidere come lavorare su internet. Perché? Anche perché forse non potremo spostarci per un periodo di tempo lungo, non lo so, magari no, io mi auguro assolutamente di no. Però può essere che non ci sia modo di fare molti mercatini, non se ne faranno tanti. Io spero, ripeto, di no. Però pensiamo che internet potrebbe essere un grande volano. Quindi decidete dove piazzarvi, che cosa fa il caso vostro, la pagina internet, Pinterest, Etsy, molti di noi sono su Etsy, altre vetrine, il sito internet, blog, l'e-commerce o altro ancora. Ci sarà sicuramente una via migliore per noi. Meglio ancora se riusciamo a tenere in piedi più piattaforme, più siti, creando delle connessioni tra tutti questi siti, perché in questo modo è più facile che ci trovino, di essere massicciamente presenti su internet, perché questo ci permette di essere conosciuti, cioè risultiamo più facili da raggiungere. Se è possibile facciamo questo. Credo che tutte le attività più o meno si prestino ad una soluzione del genere. Bisognerà reinventare un po' il lavoro? Sì, probabilmente sì. Guardiamo a quello che stanno facendo i commercianti in questo momento, i commercianti di alimentari che sono aperti. Ora sono aperti, hanno la possibilità di vendere. Che cosa fanno? Sul fatto? Lo facciano anche altrove. Possono fare le consegne a domicilio. Si sono adattati a fare consegne a domicilio, perché la gente si sposta di meno. Prendiamo esempio da questa situazione. Probabilmente anche noi dovremo riconvertire quello che facciamo. Usiamo un termine che viene usato per le grandi aziende. Oppure dovremo adattarci alle situazioni, inventare nuove forme di vendita. È possibile. Adesso non ne ho in mente una, ma forse dovremmo vendere inventandoci un sistema diverso, una nuova chiave, qualcosa per raggiungere le persone. Forse saremo noi ad andare da loro in un modo differente. Perché no? Si può anche pensare ad una cosa del genere. Comunque ribadisco per me internet sarà necessario per farci conoscere anche all'estero e perché all'estero continuino ad acquistare da noi. Se avete anche voi una predilezione per la vendita o una maggiore facilità di vendita all'estero. Predilezione è una parola grossa. Non escludiamo nulla. Non escludiamo nulla. Io di solito riesco a vendere maggiormente all'estero, ma perché mi sono orientata io in questo senso. Ora non escludo più nulla. Lo farò anche in Italia. Cercherò di farlo in Italia. Ne usciremo distrutti? Non lo so, però non posso escludere nulla. Come piccolo artigiano, come artista, io non posso escludere nulla. Proverò tante strade, cercheremo tante vie. Però mi raccomando, io credo che internet non vada assolutamente, non vada abbandonato, ma vada implementato. Quindi curiamo la pagina di Facebook, curiamo maggiormente Pinterest, curiamo maggiormente Etsy, curiamo il blog, se l'abbiamo apriamo un sito internet, cerchiamo di fare queste cose. Io dicendo queste cose guardo molto anche i paesi dell'est, quelli che una volta erano considerati poveri, tra virgolette, e come sono stati bravi riguardo al fattore artigianale, nel campo dell'artigianato, come sono stati bravi a vendere all'estero, nonostante loro avessero delle grosse difficoltà sul territorio nazionale. Noi dobbiamo essere adattabili, diventare più malleabili, pronti, pronti, facciamo un piano di rilancio. Passiamo una parte del nostro tempo di lavoro, se anche voi lavorate in casa, è chiaro che se avete una bottega, un negozio, avete chiuso, ora siete chiusi, in questo specifico momento in cui vi parlo. Se siete a casa però, e potete fare qualcosa, pianificate un rilancio, tenendo presente le cose che vi ho detto, sicuramente a voi ne verranno in mente delle altre, vi prego di scriverlo qui, perché può essere di utilità pubblica, sicuramente io voglio leggere con attenzione, se voi avete un vostro piano di rilancio o un'idea, semplicemente un'idea, per affrontare il futuro, perché il futuro arriverà e noi saremo con lui. Stavo dicendo con loro perché pensavo a tutte le persone. E noi saremo insieme, di nuovo insieme, quindi collaborazioni, internet, riprogrammiamo forse anche il nostro modo di lavorare, quello che produciamo, pianifichiamo il futuro, cioè quali saranno le nostre mosse nel futuro. È importante pensarci ora, ora che abbiamo il tempo di farlo e sistemiamo i nostri blog, i nostri siti, il nostro modo di comunicare e qui davvero dobbiamo continuare a studiare marketing, lo dobbiamo fare, anche se, anche e soprattutto se siamo piccoli, ne abbiamo bisogno più noi che le grandi aziende che hanno probabilmente le spalle, si spera, io me lo auguro più forti, per resistere a questo tsunami, come l'hanno chiamato. È una cosa molto importante, io vorrei dire questa cosa, e per non fare, sto facendo il video troppo lungo, ma non volevo essere, non volevo dilungarmi così, amici. Volevo dire questa cosa, quando sarà passato questo momento terribile e potremo raccogliere i nostri cocci, noi dovremo assolutamente diffondere, questo è il mio pensiero perlomeno, amici, noi dovremo assolutamente diffondere l'idea che dobbiamo comprare italiano, comprare italiano, e in questo ci siamo dentro anche noi, come piccoli produttori di oggetti artigianali in genere, parlo di oggetti di artigianalità in genere, quindi diffondiamo questa cosa, cominciamo a pensarci ora, se abbiamo il tempo di farlo, la possibilità di farlo, cominciamo a pensarci ora, di comprare italiano, lo faremo per chi lavora in altri ambiti, per esempio mi viene in mente quello alimentare, perché è il più facile, il più immediato, faremo questo e ci aspettiamo che qualcuno lo faccia con noi e forse lo faranno dall'estero se vedono che noi lo facciamo, forse vorranno acquistare italiano proprio per quello che ci è accaduto, forse vorranno acquistare europeo, forse proprio per quello che c'è successo. Mi chiedo scusa se ogni tanto incespico, un po' è l'agitazione, vi devo dire da 24 ore che ho questa tachicardia continua che cerco di tenere sotto controllo con un farmaco che prendo, però obiettivamente sono un po' agitata, quindi la situazione di oggi è questa. Quindi comprare italiano, faremo un movimento, ci uniremo perché la gente comprenda che un modo per venire fuori da questa situazione sarà unirci di nuovo, unirci quando sarà possibile e io spero molto presto. Quindi vi prego il programma compriamo italiano, facciamolo nostro, diventiamo bandiere di questo, arriverà il momento, intanto noi aspettiamo e stringiamo le dita naturalmente, continuiamo ad andare avanti, il mio canale va avanti e guardate che vi propone sempre tutorial di wire, tutorial, ne arriverà uno venerdì interessante. Attenzione, tutorial di do it yourself, questo per quanto mi riguarda, però mi raccomando prepariamoci, questa è la nostra campagna per il futuro, investiamo ora per quello che accadrà. Ditemi che cosa ne pensate, ditemi se avete progetti, ditemi se possiamo progettare insieme. Ciao, grazie per avermi seguiti e a venerdì! Iscrivetevi, mettete like se vi è piaciuto, partecipate alla campagna, offrimi un caffè, commentate, commentate, soprattutto mi farebbe veramente piacere. Ciao!